Domenica 25 agosto in piazza Biscione a Petrosino si è tenuta la seconda edizione della Sacra dell'Arancina organizzata da Problemi Zero Pastorella Event in collaborazione con i Tric e Due Cabaret sotto il padrocinio del comune di Petrosino. Tanti ospiti sul palco hanno intrattenuto il pubblico intervenuto con i giovanissimi della band Blue Monkeys, il gruppo folklorico I Picciotti di Matarò e l'esibizione di ballo della scuola di danza estrella latina di Irene Ingardia e del centro danza animo latina dei maestri Giuseppe e Brigitte e infine il tiktoker siciliano Gigetto 50 anni fisichetto che ha fatto impazzire quanti lo hanno ascoltato insieme alle esilaranti gag del tuo Tric e Due Cabaret. Grande successo dunque per la Sagra dell'Arancina con tante risate e il pubblico molto divertito!